Oggi abbiamo uno dei protagonisti del rock italiano, Manuel, il gruppo degli After Hours. Ti basta il cognome, il nome? Che cosa ti piace di più? Il nome forse? Dai, ti conosco o no. Il nome del gruppo è la cosa più importante. Senti, vorrei, prima abbiamo fatto quattro chiacchiere giù in FNAC, vorrei continuare idealmente lo streaming di prima, tornando al passato, perché secondo me insegna molto ai ragazzi. Che musica ascoltavi quando hai iniziato e che musica ascolti oggi? Io ho una formazione in realtà molto strana, perché è una formazione classica, da ragazzino studiavo pianoforte, l'ho fatto fino a 19 anni. Contemporaneamente però ho cominciato a ascoltare quello che mi passavano gli amici alle superiori, per cui gruppi post-punk americani soprattutto, e il post-punk americano è stato la musica della mia adolescenza, quella che mi ha formato rispetto poi a tutto quello che ho fatto dopo, ma avendo 42 anni ormai ho ascoltato una montagna di musica. È difficile dire chi è stato più importante e chi è stato meno importante per la mia formazione. Tutta la musica, come mi auguro sia per chiunque, per qualsiasi musicista, insomma, tutta la musica è importante. Adesso faccio fatica ad ascoltare i dischi, un po' perché non sta uscendo materiale così molto innovativo ultimamente. Sì, se parliamo di dischi sperimentali qualcosa esce, ma non è quello che intendo. Non sta uscendo niente che comunica veramente con la gente che nello stesso tempo rinnova le formule sonore che già negli ultimi 30-40 anni a rock and roll ha espresso. Quindi faccio un po' più fatica ad essere attirato dalla musica contemporanea. Quindi in realtà giochi e lavori su tue ritmi che su tue idee, a questo punto non c'è più niente che possa di nuovo influenzarti. No, sicuramente ci sono tante cose che mi influenzano, ma sono al di fuori del rock, sono in altri generi, non semplicemente nella musica, possono essere nella letteratura, ma anche nel design, nella pittura, nel calcio, in qualsiasi cosa. Non bisogna per forza riferirsi allo stesso campo, per trovare degli spunti o delle idee. Sicuramente a livello musicale ascolto tantissima roba vecchia ancora adesso, perché ci trovo ancora una libertà creativa che faccio fatica invece a trovare oggi nelle produzioni contemporanee. Ok, altra domanda. Si è parlato prima dell'inglese e voi non avete problemi, tu non hai mai avuto problemi con l'inglese. Sull'inglese impattarono grossi gruppi italiani, PFM, Banco, quando tentarono di uscire fuori. In Italia c'era la PFM, poi Genesis. Appena hanno tentato di uscire fuori hanno impattato sull'inglese. Voi invece siete avvantaggiati, questo significa che all'estero non ci sono problemi per voi. No, questa cosa dell'inglese è una leggenda tutta italiana. Non è necessario essere maestro in inglese per cantare in inglese, non è necessario cantare in inglese con un accento di Londra. Per essere accettati all'estero bisogna cantare invece in modo credibile, che non vuol dire cantare con l'accento giusto, vuol dire cantare in modo credibile, cioè in modo da trasmettere della sincerità mentre si canta e non tutti i gruppi che cantano con l'accento giusto sono credibili, perché immaginati un gruppo tedesco che canta con l'accento di Milano, può fare anche abbastanza ridere, no? Preferisco l'accento di Hamburgo al limite. Però al di là di questo credo che la lingua sia sopravvalutata come il perché di una cosa funziona o meno all'estero. All'estero funzionano le cose che riescono a comunicare un discorso che è molto nazionale, cioè con molta personalità, che riesce ad essere veramente italiano e quindi a distinguersi dalle cose che loro già hanno e non ne hanno bisogno altre, però nello stesso tempo che non è così italiano da avere paura di comunicare con l'esterno. Io credo che molto il limite più grosso quando ci sono gruppi che si rivolgono all'estero, il limite più grosso è la paura, è la vigliaccheria di affrontare un certo tipo di situazioni e di farlo con convinzione. E questo è un po' colpa anche dell'ambiente in Italia, non solo nella musica, che ti porta sempre a pensare basso, a volare basso, a non spiccare mai il volo, a essere sempre molto umile. Io non credo che l'umiltà sia un valore in sé per sé quando si parla di arte. Credo che invece il fatto di avere il coraggio di dire le cose che si sentono e che si pensano sia un valore molto più importante. Ultima domanda. Questa è più una battuta che altro. C'è qualcosa che lava più della lavatrice? La paura, la paura, la lava che più bianco non si può. Ciao, sono Manuel Agnelli degli After Hours, ciao. Ciao ragazzi.